Posti tanto, ma trovi delle differenze di interazioni e sei in preda allo sconforto. Ecco come capire a che ora postare. Prima di tutto, entra in Instagram e clicca su Insight. Poi cambia da 7 giorni a ultimi 30 giorni e aggiorna. Se clicchi su Account raggiunti, noterai quali persone ti seguono, uomo e donna, e quanti tuoi follower e non follower. Torna indietro, clicca su Account coinvolti, controlla le interazioni, devono crescere, quindi tienili sempre monitorati, mi raccomando. Torna indietro e clicca su Numero totale di follower, dove aumentano e diminuiscono. È fisiologico, non preoccuparti. Qui scendi in fondo su Periodi di Maggiore Attività, controlla il flusso più alto. Nel mio caso è ore 18 ogni giorno. Bene, questo è il mio migliore orario per postare, significa che il mio pubblico apprezza quell'orario. Questo è quello che dovrai fare anche tu una volta individuato l'orario. Spero di esserti stato utile, salvalo per rivederlo perché è abbastanza lunghino, metti un mi piace, fai un tap tap e seguimi per le altre tips. Ciao!